Quello che molti festeggiano sta suscitando timori nella comunità kurda. Svezia e Finlandia entreranno a far parte della Nato, ma l'accordo è stato raggiunto solo quando la Turchia ha tolto il suo veto, dopo la firma di un memorandum d'intesa in cui, secondo i kurdi, i due stati nordici hanno concesso troppo ad Ankara. Parlando con Euronews, però, il ministro degli esteri finlandese ha dato delle rassicurazioni. In Finlandia non stiamo cambiando la nostra legislazione, la Svezia non sta cambiando la sua legislazione. Siamo d'accordo su una certa cooperazione tra le nostre autorità, ma stiamo seguendo le nostre leggi in materia di diritti umani, di esportazioni di armi e così via. E non credo che questo tipo di cooperazione rafforzata tra le autorità sia una cosa negativa. Il memorandum impegna i due paesi ad occuparsi delle richieste di Ankara di estradizione di sospetti terroristi, che si riferiscono ad attivisti kurdi. La Finlandia afferma che non ci sono casi pendenti e gli alleati della Nato sono fiduciosi. Svezia e Finlandia sono partner democratici affidabili, che sono stati dei fari per quanto riguarda i diritti umani e lo Stato di diritto. Ho quindi piena fiducia che non sacrificheranno i principi fondamentali che hanno difeso con tanta determinazione negli anni precedenti. Penso che abbiano trovato formulazioni e decisioni che mantengano la loro posizione di principio, ma che ci consentano di rispettare ciò che la Turchia chiedeva. Attraverso il memorandum, Stoccolma e Helsinki hanno confermato che il PKK kurdo è un'organizzazione illegale e che non forniranno sostegno ai gruppi attivi in Siria. Hanno anche dichiarato che non esista alcun embargo nazionale sulle vendite di armi alla Turchia.